Ciao ragazzi, questo è il mio modulo di laser laser di 20 W. Per alcuni giorni la sua performance non è stata più satisfica, quindi ho deciso di misurare il modulo di potenza attuale. Ho usato un semplice mettero laser, il più barato che potrei comprare su internet. Se lo cercate, ho messo un link nella descrizione. Ho messo 3,7 W, ma la potenza di questo modulo dovrebbe essere above 5 W. Quindi, ho pensato che la luce possa essere fissata. Una possibilità di mostrare la mia procedura di pulizia. Ho prenduto una canna di l'air compressivo, un altro alcol isopropropilo e una scuola. Ho usato una parte della canna di l'air compressivo con l'alcol isopropilo e pulito la luce vigorosamente. Con l'altra parte lo secco bene. Inizialmente, ho un blocco di l'air compressivo per eliminare alcun lint. Andiamo per vedere il risultato. Ora, il mio mettero di potenza misura 5,1 W, che è esattamente il potenza che ho aspettato per questo modulo. Quindi, prima di pensare che il tuo diodo è bruciato, provi a dargli un vigorous clean, che magari è solo 30. La performance potrebbe migliorare per up to 30% solo con questa procedura. Io spero che questo video ti può aiutare. Se ti piace questo video, abbiatevi e mi sapete cosa pensate nei commenti. A presto. A presto. Abbiatevi al video. Grazie a tutti